pirandello la realtà del sogno tutto ciò che egli diceva pareva avesse lo stesso valore incontestabile della sua bellezza quasi che non potendosi mettere in dubbio che fosse un bellissimo uomo ma proprio bello tutto non potesse parimenti essere mai contraddetto in nulla e non capiva niente proprio non capiva niente di quanto avveniva in lei e sentire le interpretazioni che dava con tanta sicurezza di certi suoi moti istintivi di certe sue forse anche ingiuste antipatie di certi suoi sentimenti le veniva la tentazione di graffiarlo di schiaffeggiarlo di morderlo anche perché poi con quella freddezza e sicurezza e quell'orgoglio di bel giovane veniva a mancarle in certi altri momenti allorché le s'accostava perché aveva bisogno di lei timido umile supplichevole allora come insomma in quei momenti ella non lo avrebbe desiderato sicché anche allora per un altro verso si sentiva irritata tanto che pur essendo proclive a cedere si induriva restia e il ricordo d'ogni abbandono avvelenato sul più bello da quell'irritazione si cambiava in rancore sosteneva che fosse una fissazione in lei quell'impaccio che diceva di provare davanti a tutti gli uomini li provi cara perché ci pensi sostinava a ripeterle ci penso caro perché li provo ribatteva lei che fissazione li provi è così e debbo ringraziarne mio padre della bella educazione che mi ha data vuoi mettere in dubbio anche questo e almeno questo no era sperabile ne aveva fatto esperienza lui stesso durante il fidanzamento nei quattro mesi prima del matrimonio la nella cittaduzza natale non gli era stato concesso nonché di toccarle una mano ma neppure di scambiare con lei due paroline a bassa voce più geloso di una tigra il padre le aveva inculcato fin da bambina un vero terrore degli uomini non ne aveva ammesso mai uno che si dice uno in casa e tutte le finestre chiuse e le rarissime volte che l'aveva condotta fuori le aveva imposto di andare a capuchino come le monache e guardando a terra quasi a fare il conto dei ciottoli del selciato ebbene che meraviglia se ora la presenza di un uomo provava quell'imbarazzo e non riusciva a guardar negli occhi nessuno e non sapeva più né parlare né muoversi già da sei anni è vero sarà liberata dall'incubo di quella feroce gelosia paterna vedeva gente per casa per via eppure non era più certamente quel puerile terrore di prima ma questo imbarazzo ecco i suoi occhi per quanto si sforzassero non potevano proprio sostenere lo sguardo di nessuno da lingua parlando le si imbrogliava in bocca ed improvviso senza saper perché si faceva in volto di bragia per cui tutti potevano credere che le passasse per la mente chissà che cosa mentre proprio non pensava a nulla e insomma si vedeva condannata a far cattive figure a passare per sciocca per stupida e non voleva inutile insistere grazie al padre doveva star chiusa senza veder nessuno per non provare almeno il dispetto di quello stupidissimo ridicolissimo imbarazzo più forte di lei gli amici i migliori quelli a cui egli teneva di più e che avrebbe voluto considerare come ornamento della sua casa del piccolo mondo che sei anni addietro sposando aveva sperato di formarsi intorno già si erano allontanati a uno a uno sfido venivano in casa domandavano tua moglie sua moglie se nella scappata a precipizio al primo squillo di campanello fingeva di andare a chiamarla andava davvero si presentava con la faccia afflitta le mani aperte pur sapendo che sarebbe stato inutile che la moglie lo avrebbe fulminato con gli occhi accesi tira e gli avrebbe gridato tra i denti stupido voltava le spalle e ritornava di ossa come dentro di fuori sorridente ad annunziare abbi pazienza caro non si sente bene si è buttata sul letto e una e due e tre volte alla fine si sa si erano stancati pareva loro dar torto ne restavano ancora due o tre più freddi o più coraggiosi e questi almeno questi voleva difenderseli uno specialmente il più intelligente di tutti dotto sul serio e odiatore della pedanteria forse anche un po' per ostentazione giornalista argutissimo insomma amico prezioso qualche volta da questi pochi amici superstiti sua moglie sarà fatta vedere o perché colta di sorpresa o perché in un momento buono sarà attesa alla preghiera di lui e no signori non era vero niente che avesse fatto cattiva figura tutt'altro perché quando non ci pensi vedi quando ti abbandoni al tuo naturale tu sei vivace grazie tu sei intelligente grazie e sei tutt'altro che impazzata te lo assicuro io scusa che gusto avrei a farti fare una cattiva figura parli con franchezza ma sì anche troppa talvolta sì sì grazosissima te lo giuro t'accendi tutta e gli occhi altro che non saper guardare ti sfavillano cara mia e dici dici cose anche ardite sì ti meravigli non dico scorrette ma ardite per una donna con scioltezza con disinvoltura con spirito insomma te lo giuro si infervorava nelle lodi notando che il la pur protestando di non credere affatto ne provava in fondo piacere arrossiva non sapeva se sorridere o agglottare le cilia è così è proprio così credi è una vera fissazione la tua avrebbe dovuto metterlo almeno in apprensione il fatto che ella non protestava contro questa sua cento volte asserita fissazione e accoglieva quelle lodi sul suo parlar franco e disinvolto e fin anche artito con evidente compiacimento quando e con chi aveva ella parlato così pochi giorni addietro con l'amico prezioso con quello che lei era naturalmente il più antipatico di tutti è vero che l'ammetteva l'ingiustizia di certe sue antipatie e che soprattutto tutti antipatici diceva quegli uomini davanti ai quali si sentiva più imbarazzata ma ora il compiacimento di aver saputo parlare davanti a quello anche con improntitudine proveniva dal fatto che costui certo per pungerla sotto sotto in una lunga discussione sull'eterno argomento dell'onestà delle donne aveva osato sostenere che il soverchio pudore accusa infallibilmente un temperamento sensuale sicché c'è da diffidare d'una ronna che arrossisce di nulla che non osa alzare gli occhi perché crede di scoprire dappertutto un attentato al proprio pudore in ogni sguardo in ogni parola un insidia alla propria onestà vuol dire che questa donna ha l'ossessione di immagini tentatrici teme di vederla dovunque se ne turba al solo pensiero come no mentre un'altra tranquilla di sensi non ha affatto di questi pudori e può parlare senza turbarsi anche di certe intimità amorose non pensando che ci possa essere nulla di male in una che so in una camicetta un po scollata in una calza traforata in una gonna che lasci scorgere appena appena qualcosa più su del ginocchio con questo vadiamo non diceva mica che una donna per non essere creduta sensuale dovesse mostrarsi sfacciata sguaiata e far vedere quello che non si deve far vedere sarebbe stato un paradosso e gli parlava di pudore e il pudore per lui era la vendetta dell'insincerità non che fosse sincero per se stesso era anzi sincerissimo ma come espressione della sensualità insincera è la donna che voglia negare la sua sensualità mostrando in prova il rosso del suo pudore sulle guance e questa donna può essere insincera anche senza volerlo anche senza saperlo perché nulla è più complicato della sincerità fingiamo tutti spontaneamente non tanto innanzi agli altri quanto innanzi a noi stessi crediamo sempre di noi quello che ci piace credere e ci vediamo non quali siamo in realtà ma quali presumiamo ad essere secondo la costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi così può avvenire che una donna anche a sua insaputa sensualissima sinceramente creda ad essere casta e di provare sdegno e ribrezzo della sensualità per il solo fatto che arrossisce di nulla questo arrossir di nulla è per se stesso espressione sincerissima della reale sensualità di lei è assunto invece come prova della creduta castità e così assunto diventa naturalmente insincero voi signora aveva concluso alcune sere fa quell'amico prezioso la donna per la sua natura salve si intende le eccezioni è tutta nei sensi basta saperla prendere accendere e dominare e troppo pudiche non hanno neppur bisogno di essere accese s'accendolo avvampano subito da sé appena toccate non aveva dubitato un momento il che tutto questo discorso si riferisse a lei che appena andato via l'amico si era rivoltata ferocemente contro il marito che durante tutta la discussione non aveva fatto altro che sorridere come uno scimunito e approvare ma insultata in tutti i modi per due ore e tu tu invece di difendermi hai sorriso hai approvato lasciandogli intendere così che era vero quel che diceva perché tu mio marito e tu tu lo potevi sapere ma che cosa aveva esclamato lui trasecolato tu farnetichi io che tu si sensuale ma che dici se quello parlava della donna in genere che c'entri tu ma se avesse per poco sospettato che tu potesse riferire a te il suo discorso non avrebbe aperto bocca e poi scusa come poteva crederlo se non ti sei mostrata affatto con lui quella donna putibonda di cui egli parlava non è mica rossito hai difeso con impeto con fervore la tua opinione e io ho sorriso perché me ne compiacevo perché vedevo la prova di quanto ho sempre detto e sostenuto che cioè quando tu non ci pensi non sei punto impacciata punto imbarazzata e che tutto codesto tuo presunto imbarazzo non è altro che fissazione che c'entra il pudore di cui quello ti parlava non aveva trovato da rispondere a questa giustificazione del marito sarà chiusa in sé cupa a rimuginare a rimuginare perché si fosse sentita così a dentro ferire dal discorso di colui non era pudore no no e no non era pudore il suo quel tal pudore schifoso di cui egli parlava era imbarazzo 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 ma certo un maligno come quello poteva scambiare per pudore quell'imbarazzo e perciò crederla una una a quel modo ecco se veramente però non si era mostrata imbarazzata come il marito asseriva l'imbarazzo tuttavia lo provava poteva qualche volta vincerlo sforzarsi a non mostrarlo ma lo provava ora se il marito negava in lei quest'imbarazzo voleva dire che non si accorgeva di nulla non si sarebbe perciò neanche accorto se quest'imbarazzo fosse in lei un'altra cosa cioè quel tal pudore di cui quello aveva parlato possibile addio no il solo pensiero le faceva schifo orrore eppure fu nel sogno la rivelazione cominciò come una sfida quel sogno come una prova a cui quell'uomo odiosissimo la sfidasse in seguito alla discussione avuta con lei tre sere avanti e la doveva mostrargli che non avrebbe arrossito di nulla che egli poteva fare su di lei qualunque cosa gli piacesse che la non si sarebbe né turbata né punto scomposta ed ecco egli cominciava con fredda audacia la prova e passava prima lievemente una mano sul volto al tocco di quella mano e la faceva uno sforzo violento su se stessa per nascondere il brivido che le correva per tutta la persona e non venare lo sguardo e tener fermi impassibili gli occhi e appena sorridente la bocca ed ecco ora egli le accostava le dita alla bocca le rovesciava dolcemente il labbro inferiore e annegava lì nell'interno umidore un bacio caldo lungo di infinita dolcezza e la serrava i denti si interiva tutta per dominare il tremito il fremito del corpo e allora egli prendeva tranquillamente ad enudarne il seno e che c'era di male no no nulla nulla di male ma oddio no egli si indugiava perfidamente nella carezza no no troppo vinta perduta da prima senza concedere cominciava a cedere non per forza di lui no ma per il languore spasimoso del suo stesso corpo e alla fine balzò dal sogno convulsa disfatta tremante piena di ribrezzo ed orrore guardò il marito che le dormiva ignaro accanto e l'onta che sentiva in sé si cangiò subito in abominazione per lui come se lui fosse cagione dell'ignominia di cui provava ancora il piacere e il raccapriccio lui lui per la stupida ostinazione d'accogliere in casa quegli amici ecco ella lo aveva tradito in sogno tradito e non ne aveva rimorso no ma rabbia per sé d'essere stata vinta e rancore rancore contro di lui anche perché in sei anni di matrimonio non aveva saputo mai mai farle provare quel che aveva orora provato in sogno con un altro ah tutta nei sensi dunque era vero no no la colpa era di lui del marito che non volendo credere al suo imbarazzo la forzava a vintersi a fare violenza sulla sua natura la esponeva a quelle prove e quelle sfide donde era nato il sogno come resistere a una tal prova ne aveva voluta lui il marito e questo era il castigo ne avrebbe goduto se dalla gioia maligna che provava al pensiero del castigo per lui avesse potuto staccare l'onta che provava per sé e ora l'urto avvenne nel pomeriggio del giorno appresso dopo il duro silenzio mantenuto per tutta la giornata contro ogni insistente domanda del marito che voleva sapere perché fosse così e che cosa le fosse accaduto avvenne all'inizio della solita vista di quell'amico prezioso udendo nella saletta d'ingresso la voce di lui e la sussultò d'improvviso scontraffatta un'ira furibonda li guizzò negli occhi salto addosso al marito e fremente da capo a piedi gli intimò di non ricevere quell'uomo non voglio non voglio fallo andar via e gli restò in prima più che stupito quasi sgomento di quello scatto furioso non potendo comprendere la ragione di tanta ripugnanza quando già credeva che l'amico anzi per quanto egli aveva detto dopo quella discussione fosse entrato un po nelle grazie di lei si irritò fieramente all'assurda perentoria intimazione ma tu sei pazza o vuoi farmi impazzire devo perdere davvero per la tua stupida follia tutti gli amici e divincolandosi da lei che gli si era aggrappata addosso ordinò alla serva di far passare il signore il da balzò a rintenarsi nella camera accanto lanciandogli prima di scomparire dietro la portiera uno sguardo d'odio e di disprezzo cascò sulla poltrona come se le gambe d'un tratto le si fossero stroncate ma tutto il sangue le frizzava per le vene e tutto l'essere le si rivoltava dentro in quell'abbandono disperato udendo attraverso l'uscio chiuso espressioni di festosa accoglienza del marito a colui con cui ella la notte avanti nel sogno lo aveva tradito e la voce di quell'uomo oddio le mani le mani di quell'uomo improvviso mentre si convellava tutta sulla poltrona strizzandosi con le dita artigliata le braccia il seno cacciò un urlo e cadde a terra un preda una spaventosa crisi di nervi a un vero assalto di pazzia i due uomini si precipitarono nella camera restarono un istante atterriti alla vista di lei che si contorceva per terra come una serbe mugolando ululando il marito si provò a sollevarla l'amico accorse ad aiutarlo non l'avesse mai fatto sentendosi toccata da quelle mani il corpo di lei nell'incoscienza nell'assoluto dominio dei sensi ancora memori prese a fremere tutto un fremito voluttuoso e sotto gli occhi del marito si aggrappò a quell'uomo chiedendogli smaliosamente con orribile urgenza le carezze frenetiche del sogno in un ridito egli la strappò dal petto dell'amico e la gridò si dibatté poi gli si arrovesciò tra le braccia quasi sanime e fu messa a letto i due uomini si guardarono esterrefatti non sapendo che pensare che dire l'innocenza era così evidente nello sbalordimento doloroso dell'amico che nessun sospetto fu possibile al marito lo invitò ad uscire dalla camera gli disse che dalla mattina la moglie era turbata in uno stato di strana alterazione nervosa lo accompagnò fino alla porta domandogli scusa se lo licenziava per quel doloroso improvviso incidente e ritornò di corsa alla camera di lei la ritrovò sul letto già rinvenuta aggruppata come una belva con gli occhi invetrati tremava in tutte le conto di quanto era accaduto e la loro espinse con ambo le braccia e a denti stretti con volutà di laniatrice e avventò in faccia la confessione del tradimento diceva con un sorriso convulso malvagio stringendosi in sé ne aprendo le mani nel sogno nel sogno e non gli fece grazie ad alcun particolare il bacio nell'interno del labbro la carezza sul seno con la perfida certezza che egli pur sentendo come lei che quel tradimento era una realtà e come tale irrevocabile irreparabile perché consumato assaporato fino all'ultimo non poteva imputarglielo a colpa non poteva imputarglielo a colpa il suo corpo egli poteva batterlo straziarlo dilaniarlo ma eccolo qua era stato d'un altro dell'incoscienza del sogno non esisteva nel fatto per quell'altro il tradimento ma era stato e rimaneva qua qua per lei nel suo corpo che aveva goduto una realtà di chi la colpa che poteva egli farle